Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere come resettare il service di una BMW E60 del 2004 in questo caso, è una serie 5, chiave inserita, accendiamo il quadro, qui ci dice un service da resettare a maggio, siamo a maggio, quindi schiaccio questo pulsante a sinistra, lo tengo premuto per entrare nel sottomenu del service appunto, ok, siamo entrati, vado avanti così sbircio il service che ci sarà da resettare, così via dicendo, vado avanti, vado avanti, torno a quello che mi interessa, schiaccio, tengo premuto, mi controlla, lascio, riconfermo per dire sì, resettamelo, e siamo a posto, ha allungato di due anni perché è un service che è in scadenza ogni due anni, in questo caso abbiamo resettato, spingiamo il quadro, ricontrolliamo se ci segnala qualche cosa, no, appunto, tutto fatto, grazie.